La partenza di Marchese lascia incustodita in vista della prossima stagione la corsia sinistra del Catania, impegnato in queste ore a trovare un sostituto all'altezza. Le attenzioni degli uomini di mercato del club rosso-azzurro sono concentrate su tre nomi in particolare, Avelar del Cagliari, Vitale della Ternana, Grillo del Siena, già inseguito lo scorso anno. Da questa terna dovrebbe uscire il nuovo titolare della corsia sinistra rosso-azzurra. Dall'argentina, oltre ad un centrocampista, potrebbe arrivare una centrale di difesa e in caso di cessione di spolle un attaccante. Ignacio Scocco resta sempre un obiettivo come Ardemagni. Possibile la cessione in prestito di Zani. In mezzo al campo ruota tutto attorno al futuro di Lodi, corteggerissima gennaio da molti club sul quale adesso ha messo gli occhi la fiorentina di Montella. Calello del Siena potrebbe essere un'alternativa, anche se il Catania continua a ribadire che al momento non sono arrivate richieste per il suo regista. Ricchiuti intanto potrebbe trasferirsi alla Cremonese. Non verranno invece riscattati Martigno e Fedato, che resteranno a Verona e a Bari. Domani intanto il presidente Pulvirenti presenterà il nuovo CDA della società. Presenti Pablo Cosentino e... A Catania non ci sarà un nuovo amministratore delegato, dopo Lomonaco e Gasparin. Il presidente Nino Pulvirenti ha deciso di trovare soluzioni interne e le prime conferme sono arrivate dal Consiglio d'amministrazione di lunedì scorso, con la nomina di due vicepresidenti, Cosentino e Vitaliti. Peraltro poco si conosce di Pablo Cosentino, al di là del fatto che resta fra i maggiori e titolati agenti FIFA del Sud America. E proprio domani pomeriggio, alle 16, la società rosso-azzurra lo presenterà ufficialmente. Ma torniamo alla giornata di ieri, quando Gasparin ha salutato il Catania, senza polemiche, in punta di piedi e con grande garbo. Dopo il record di punti in Serie A dell'anno scorso, 48, e dopo la gestione di Lomonaco, positiva sul piano dei risultati sportivi, voi fate una cartellina con scritto scriviamo la storia. Lei capisce se per caso va male, che tipo di situazione c'è? E io dissi, ma guardi, io credo al lavoro, al sudore, alla professionalità, al lavorare assieme, al cercare con tutti noi stessi di raggiungere un risultato. Quello, avevate ragione, era un azzardo dal punto di vista mediatico, ma quell'azzardo si è trasformato poi in una stagione magica. Intanto dal mercato in uscita emerge che per Giovanni Marchese sarebbe pronto un contratto di 4 anni con il Genoa.